L'Italia era grande perché c'era un numero altissimo di sartorie, però il mondo è cambiato, come mestiere della sartoria c'è anche tanti altri mestieri che stanno finendo, finendo per quella che è la vera sartoria, quella manuale, quella fatta l'eccellenza. Poi nasce tanti nomi marcati sartoria ma sono solo lavori industriali perché oggi si riempiono tutti la bocca di sartoria ma il vero lavoro, quello che l'estero ci richiede è il fatto a mano, le cose fatte bene, quello che noi abbiamo sempre fatto conoscere al mondo, non solo come sartoria ma con tante belle cose che dal rinascimento in poi l'Italia è diventata un tesoro di bellezze che il mondo intero ci invidia. Insieme a oggi ci invidia tutto quello che è e quello che ancora oggi produciamo. Mi auguro che si possa continuare anche in futuro. Dare un lascito a ragazzi giovani dell'unica cosa che ha permesso all'Italia di sopravvivere sull'alta moda. Non dipende solo da noi, dipende anche dalla burocrazia, dal sistema. Le scuole professionali non sono sufficienti, ci vuole scuola lavoro cercando di collaborare fra le scuole e i laboratori. Allora però bisogna collaborare pensando di insegnare qualcosa, insegnare un mestiere, non collaborare con burocrazia, con cose complesse. Dobbiamo lavorare e portare avanti l'azienda, non possiamo stare a perdere tempo. Si lavora nel modo diverso forse da un sistema burocratico. Noi vogliamo che le cose vadano veloci, si deve imparare, si deve imparare a portare avanti un'azienda, imparare il tuo mestiere ma all'interno di un'azienda. Allora la scuola ti può insegnare una parte importante culturalmente di preparazione, però dopo la manualità va vista veramente in campo, come si dice, la battaglia si fa nel campo.